Penso proprio che si possono definire le Olimpiadi dei social network. Anch'io ammetto che girando tra i vari siti di gara non sono aggiornatissimo, basta che mi connetto un attimo, ci sono 100.000 notizie che arrivano ancora prima della diretta. È veramente molto comodo, diciamo che è iniziata nuova era. Grazie a tutti.